Bella ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi su Fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di Fortnite. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sul supporto al creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. Tetto, frullare femminile, mi piace. Stai in salontanito. Tetto? Ah sei proprio un coglione, guarda. Ammazzalo. Ma è un lama quello. Oh my god. Oh parca, 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 dietro, 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 dietro. Fa una kappa. Devo ricaricare. YouTube, by the way, vado a far video. Ma cosa ho scildato? Guarda, tu lo abbiamo, ha 60 HP. L'ho distrutto. No, non mi firi, non mi... Tua madre, fai bocchini. Vedi un colpo. Mike, ma sei un pezzo di... Raga, vi rendete conto questo? Lama mi ha dato... Ma dire siamo noi in casa. Raga, mi ha dato due rift e un pad. Ma che stia a dire? Ti giuro di Dio, ho due rift e un pad. Due rift e un pad. Poi nella war cut però? Eh, alla war cut non ti dà le trappole. Oh, ho trovato un rift da poco. Tra i caldo. Allora abbiamo 6 kill, l'oro 0. Io barca, io barca, ho gli scidini per te e anche il tac. Non sei kill, avete? Sei. Busciamo, 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 busciamo. Ecco qui. Ho avuto molto a quello. Stava per buttarsi il giovar da me. Ok, io sparo. Tra qualcuno qua dentro, aspetta. Non saprei di te. Da me, Mike. Non puoi riftare questo uo. Ma la skill preferita ci voleva. Cazzo, mi capisco prima tu. E' questo qua e' bravo. Bene, va. Ti lascia i mini colpi di pompa, c'è il tac verde per terra. Vai, vai, c'è il salto. Vieni. Non ho aspettative di vita lunghissime. Sì. Sono di Napoli. Lascia il team completo da me. Madonna, questo era ridito. Non ciò che ho fatto. Non ho paura. Due sono morti, eh? Sì, è rimasto uno sopra. Dove ha hit? Arrivo. Ma com'è? Hanno cerchietto più se... Eh, forse... Lo sniper normale, lo riparo. Ok, adesso ci sta il pompa nuovo là sopra, Martin. Ah no, ho rebuttato qualcuno, media. Ma che... Sì, sì. Ho rebuttato qualcuno. Non so dove, ma non ho rebuttato. Sì, ho letto pure in chat. Sì, ho letto in chat. Sì, infatti, infatti, infatti. Cazzo, va bene. No, no, a me, a me, Marti. Ma che fa questo? Sì, è impazzato. Hai 20 secondi, Marti. Hai 20 secondi. Il scappatier è importante. Lo stavendo io. Bella, bella, bella. Grazie, Krily. Calma 5.000 euro. No, figurati. Potevi anche lasciarmi lì. A destra, a destra, a destra, a sinistra. A destra, sai qual è? A mano destra, a sinistra. Eh, è stupido. Non è così da lui. Oh, piccone, piccone. Eh, vabbè, niente balls qui. Dove è che questa stava controllando la tua live? Dove cazzo è? Dove cazzo è? Oh, è qua. Oddio, ma l'avete vista? C'è la clip di Taekwondo che ti vuoi, che te... Dello studio di Taekwondo di Taekwondo. No, tre corvi. Dei Kwan. Dice. Ma... Stavola a farlo. Ok, vi potete restare, per favore, eh? Se è qui vicino. Ma stai piangendo? Ma stai piangendo? Dio santo. Vieni, vieni che video. Dove stai, Kevin? C'è un pad, c'è? Ah, no, vieni, 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 dai, Marti, dai, Marti, dai, vabbè, che bambina c'è qua, va via. Ho questo e campare che vediamo. Ho un attimo, posso curarmi che poi sono, poi, dicendoti un motto. Ridicolo. Io non lo direi mai. Non fatti. Ok, ora sei full. Vetti sto pad. Per favore, grazie. Non ho fatto quanto tasscollo. No, no, ragazzi, poi fai un accollo, porco due. E' piangere, questo. Sì, sì. Dai, Marti. No, non la fa, la chiamo, e scocci. Di spazio, o di spazio. No, quitte. Valeria, dell'area. No. C'è solo la pallina, la pallina? C'è solo la pallina, la che il bush? Oh! Dai, si chiara fatti di cecchino. ma che vuoi edita che cazzo vuoi barca premi quella g di merda ridicolo ci sono dei ragazzi ci sono ancora due players sopra da me, io non ho materiali, io non ho video, io non sono io brother oh my god il mio è un pazzer si si vieni scherzavo, ne ho due no devi ballare è una aggressiva guarda se ne volevano far male, scusate avete un po' di materiale per me picciotti fai tempo di cura per me metto un pad che c'è che prende un pad con la palla io non ho provato, volevo provare cazzo esci tu c'è un altro pad che cazzo stanno tutti da sopra a piccare guardate che posti meno uno poi li push ma ci finerei avessi colpi ma dici quelli, quelli lì sopra la sentinella si erano 4 persone ferme te lo giuro guardate con sto cazzo qui uno l'avevo atterrato ma l'avranno restato c'è uno si è buttato di sotto due che mi chiamo cogliona beh eh questo mi fa cadere oh ma ma mamma allora ce ne sta uno verso est non ho fatto kill io ne ho pochissimo no la ventesima no no raga non me l'ha inculato io mi ammazzo mi ammazzo 25 bianca quello che è rifiutato ed è mio hai visto sta assurdo quell'altro lo stavi dando assurdo assurdo hai visto madonna che cazzo di danno guarda che glielo sto per fare io ho fatto ti giuro io guarda che ho fatto non voglio dire una cazzata ma tipo una cosa come 10 almeno 10 kill ah la work up con sto pump guarda sopra di te guarda sopra di te guarda sopra di te no che fai la notte il sangue mi sarei salvatò con la zip line ma io dai quello dai qua dei quali poche kill vero quanti aveva davvero io efficient 4 io senti sett e 31 38 all'ordine ma comunque barca sempre pochino oh io 7 previous Grazie a tutti